Allora invece cari amici ed amiche all'ascolto siamo in compagnia di Matthew S. Ciao, buonasera! Ciao, ciao! Come va? Tutto bene? Tutto bene dai, tutto bene, sempre avanti! Come siamo positivi questa sera! Beh dai, sei da poco in radio con un nuovissimo singolo, sarai felice giusto? Certo, con il touch in collaborazione con Lainer Rifletti, l'ex cantante di Gearjack. Beh, allora ti va di parlarci appunto di come è nata questa collaborazione inizialmente? Beh, innanzitutto questo pezzo era nato come strumentale, quindi solo strumenti, era nato prendendo spunto dalla Music House Londinese, poi da Underground, però poi sentendo quella mancanza di qualcosa che desse la spinta giusta al pezzo ho deciso di inserire una voce e visto che conosco Lainer Rifletti e visto che conosco il suo progetto, il suo passato e le sue collaborazioni ho deciso di pergli una collaborazione e per fortuna diciamo che mi ha accettato la proposta di collaborazione per cui è veramente un bel pezzo, i feedback sono tutti positivi, quindi sono super felice per questo E tra l'altro con il brano è uscito anche il videoclip, giusto? Sì, sì, diretto da Daniele Sciolla, un altro artista, musicista, videomaker, un po' tutto diciamo e ha fatto veramente un lavoro, ha fatto molto molto bene Il brano si può anche acquistare appunto nel Digital Show, ricordiamo pure questo ovviamente Sì, beh, certo, Spotify, su iTunes, Spotify, ovviamente adesso la musica è un po' da partutto quindi la potete provare da qualsiasi parte Esatto, e allora ti chiedo anche prima di concludere, hai anche già nuovi progetti in cantiere? Adesso sinceramente no, perché adesso fino a fine estate, fino a settembre così cercherò di spingere al massimo questo progetto insieme al mio album poi sicuramente adesso sto progettando qualche altro lavoro però non ho ancora ben deciso come e che strada prendere è sempre comunque un work in progress E comunque tutte le informazioni si potranno seguire sui social appunto Certo, la mia appena Facebook, Instagram, dappertutto diciamo Beh, allora, visto che adesso invece noi siamo in conclusione appunto ti ascoltiamo Touch ti va di farci proprio tu il lancio radiofonico? Ok, cari amici ascoltatori, adesso noi in onda Touch Matthew S. Fitlana Ciao! Ciao! Grazie a tutti.